1, 2, 3, let's go! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Come potete sentire dalla mia voce, sono malata. Non sono malata, però ho beccato un raffreddore tipo tre giorni fa, quindi sono così. E oggi ho non coming. Ciao. Adesso sto facendo il latte col mio. E dopo mi dovrò preparare, adesso sono le 9. Devo farmi i capelli, ma la tizia mi fa che non li poteva fare perché sono malata e quindi mi peggiorava la situa. Non chiedemmi perché. Però questo è il risultato. Quindi, stai vedendo qua. Io mi sono fatta la doccia e sto sciogliendo i capelli ora. E come potete sentire la mia voce sta un po' peggiorando, però speriamo in bene per stasera che sia un po' più decente. Adesso cercherò di vivere delle cose calde. E vai, che gioia! Oh raga, che voce scrausa, mio Dio, voglio morire. E comunque sto cercando di capire il coprifuoco per stasera perché la mia famiglia ospitante mi ha messo un coprifuoco. Mi hanno detto le 12 e mezza, ma io adesso sto cercando di aggirare questa cosa e cercare di farmelo togliere perché è stata la sera della oncoming dopo una festa e sinceramente non vorrei un coprifuoco ad una festa. Quindi, detto questo, mi asciugo i capelli. Ora si passa al trucco. I capelli dopo li faccio bene dopo perché adesso sono soltanto così. Let's go! Ok, onestamente non so che trucco fare. Quindi, guys, anzi volevo chiamare la mia amica. Mentre la mia amica non mi caga. Oh madonna! Mentre la mia amica non mi caga. Mentre la mia amica non mi caga. Ho finito il trucco e i capelli. Non sono riuscita a filmare i capelli, scusatemi, perché ho dimenticato di farlo. Sono le 3.20, sono pronta un'ora prima, però va bene. Poi questi sono gli orecchini. Sono pronta, capelli, vestito, eccetera. Non ho ripreso niente perché sono stupida e mi sono inventata, come pensavo. Questo è il risultato. No, no ho ripreso. Baby, how was that for you? Woo! No. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. per favore questa visuale veramente ugly so hello guys this is our outfit and this is our bodyguard you see yeah it's our bodyguard and we're ready for this whole co-hoccoming 2021 2021 the first and the last one of our lives I was living my life who's so wrong always numb in my mind bad old on building scars from the night so far gone I was blind so now that I found what I was looking for I'm shining a light on the dark that I was coming from it never brought me down oh oh I don't know about you but I'm feeling 22 everything will be on tell some of these there's no choice me I found that oh shit oh my god oh 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 Ah, ma questo si chiama cazzo di pane. Ragazzi, sono appena tornata a casa, è tipo l'una e mezza e comunque volevo aggiornarvi che l'uncomine non è niente di speciale perché è molto bello, ok, però carino, però niente di che, sinceramente la musica faceva abbastanza schifo, me lo aspettavo diverso ed è per questo che non bisogna farsi aspettative perché poi ci rimanete male con me, diciamo non è che ci sono rimasta male, però mi aspettavo molto meglio e quindi diciamo che ci sono rimasta male rispetto alle aspettative che avevo e per questo non bisogna farsi aspettative in questa situazione, comunque questo è qua. Ciao!